E' un bel gol. Guai se Lovati non si precipitasse sulla palla. Reagisce il Torino e Buffon salva in angolo un tiro di sentimenti terzo. Fulmineo al trentaseiesimo minuto. Gol! Schiaffino non poteva meglio festeggiare il suo ritorno in squadra dopo la lunga squalifica. A due minuti dal riposo Buffon è battuto da sentimenti terzo, ma l'arbitro non concede il gol per fuorigioco di Bertoloni. L'inizio della ripresa è a netto favore del Torino. In otto minuti il Milan è costretto ben quattro volte a salvarsi in angolo. Si avventa Beersot, ma per pochi centimetri la palla è finita fuori. Adesso prepariamoci ad assistere ad un saggio dell'abilità di Schiaffino. Dalla finta al passaggio fra le gambe dell'avversario. Dall'ondeggiamento da pattinatore al lancio della propria ala. Sörensen completa l'opera chiamando al lavoro Lovati. Al ventiduesimo minuto Sentimenti passa ad Antoniotti in cui il tiro è ribattuto. Non così la replica. Gol! Ridotto il distacco il Torino incitato dai suoi tifosi cerca ora di raggiungere il pareggio. Ma Buffon lo evita deviando in angolo questa stafiata di sentimenti terzo. Sul finire è Lovati a impedire che Nord al dia al successo del Milan più ampie proporzioni. Schiaffino è raggiante. Tornato lui, tornata la vittoria.